Una stanza rosa, una stanza tutta per sé. I carabinieri del comando provinciale di Foggia nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne hanno inaugurato presso la sede di via Guglielmi un luogo per l'ascolto protetto delle vittime di ogni tipo di violenza e abuso che decidono con coraggio di denunciare. Si tratta del secondo presidio promosso dall'arma nel capologo Dauno sulla scia di un'iniziativa già consolidata presso il comando stazione carabinieri di Foggia San Lorenzo fin dal 14 aprile 2018. L'auspicio è quello di fornire a tutte le donne vittime di violenza un ulteriore ambiente privilegiato in cui possano sentirsi a loro agio nell'uscire dal silenzio. La stanza, situata nei locali della stazione carabinieri di Foggia principale, è stata realizzata d'intesa con il club Sor Optimist di Foggia nell'ambito di un protocollo nazionale tra Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Sor Optimist International d'Italia, presenti alla cerimonia di inaugurazione oltre al comandante dei carabinieri, il colonnello Michele Miulli, anche il capo di gabinetto della prefettura di Foggia, il dottor Angelo Caccavone, il presidente dell'ordine degli avvocati di Foggia, l'avvocato Gianluca Orsitti e la presidente di Sor Optimist International Club Foggia, la professoressa Angela Rosariccio. Prevenire, perseguire e curare la violenza contro le donne rappresenta un obiettivo di civiltà, crescita culturale, sicurezza e giustizia. In questo quadro le forze di polizia rappresentano spesso il primo stadio di un potenziale e positivo percorso di uscita dal circuito della violenza.